Rosario Crogetta, ex presidente della regione, si è stabilito in Tunisia dove dice di vivere felice e non si presenta a Gela nella sua città dinanzi al tribunale dove è citato come testimone nel processo per voto di scambio nelle elezioni comunali di Niscemi. Non giustifica l'assenza e viene anche multato. Si presenta invece il suo mentore, l'ex senatore del PD Giuseppe Lumia, che arriva in tribunale e risponde alle domande del pubblico ministero. A processo per voto di scambio politico mafioso nelle elezioni comunali del 2012 ci sono l'ex sindaco Francesco Larosa, eletto al ballottaggio, il suo ex assessore Calogero Attardi, il padre di quest'ultimo Giuseppe Attardi, Francesco Spatola, Francesco Alesci e i fratelli Salvatore e Giuseppe Mangione. L'accusa di aver stretto un patto con Cosa Nostra, rappresentata da Giancarlo Giugno a Niscemi e Alessandro Barberi a Gela, quest'ultimo non coinvolto nel processo. Nella stessa operazione è scaturita la condanna, con l'irrito abbreviato di Salvatore Ficarra, a sei anni e otto mesi di reclusione, riconosciuto colpevole di aver fatto parte del gruppo mafioso guidato da Giugno. Al centro dell'udienza di oggi c'è stata la composizione delle liste a sostegno di Larosa nella campagna elettorale di sette anni fa, e in particolare le parentele di alcuni candidati con soggetti legati a Cosa Nostra. La mia attenzione alle elezioni di Niscemi, addetto in udienza da Lumia, nasceva dalla presenza della sorella di Ficarra in una delle liste a sostegno di Larosa. Il politico del PD, insieme a Crocetta in quei mesi, era intervenuto a Niscemi durante alcuni comizi per denunciare come poteri poco trasparenti, stessero sostenendo la candidatura di Larosa. Ma dal caso sollevato da Lumia si è passati rapidamente ad altre parentelle, ritenute potenzialmente allarmanti. Gli avvocati degli imputati hanno fatto notare che anche nelle liste a sostegno del candidato sindaco di Martino ci fossero sia parenti di Ficarra, in particolare una nipote, sia parenti di Giancarlo Giugno, ritenuto il boss di Niscemi, il quale nella prossima udienza, il 3 aprile, verrà ascoltato come imputato in procedimento connesso.